musica 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 bella ragazzi sono Darkest Bepp e benvenuti al mio canale oggi siamo qui con un altro pacco opening siamo qui con un pacco opening da 15 mila credit come ben sapete e come avete visto nell'episodio precedente abbiamo trovato Sanchez, Nero e Hazard e proverei nell'impresa adesso a trovare un Totti visto che mi manca soltanto quello abbiamo trovato giocatori forti non if e giocatori forti if adesso manca la carta blu annaggia alla tosse del porco allora vediamo un po' tentiamo alla fortuna di trovare qualcun altro anche se dubito eh sinceramente che troveremo qualcun altro vediamo un po' Adebayor, Hulk Stortman niente 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 è un po' con Griezmann ovviamente è un argentone perché se non c'è un argento non si può definire pacco opening oro oro cioè apro quello lì da oro da 15 mila dovevo trovare gli oro chi trova gli argento ancora gli argento mannaggia mi devo trattenere a non bestemmiare eh mannaggia mannaggia Fernandinho attenzione Fernandinho è già qualcosa di buono no iniziamo bene andiamo un po' attenzione hazard niente niente uuu buono è buono anche questo dai dai che sono ispirato a trovare qualcuno l'ultimo cioè con quella con quella carta lì cioè col portiere lì mi ricordo che ho trovato Sanchez e Hazard nello scorso episodio uuu la pezzi ma non vale più un cazzo c'è i giocatori forti di una volta non valgono più niente proprio questa è fifa questa è fifa bel pacchetti di merda bel pacchetti di merda bel pacchetti di merda minchia minchia alla faccia quanti soldi sprecati inutilmente per trovare un cazzo di totti che non troverò mai cazzo forza 15 mila ma basta sto un teracazzo lo trovo sempre madonna alzata attenzione alzata poi non sono sfigato poi non sono sfigato Neuer che fino a due giorni fa era carta blu e valeva 3 milioni e io cosa faccio lo devo trovare mannaggia 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 porco di Neuer di merda non potevi uscirmi prima ma non ci posso credere raga mi accontento che l'ho trovato Neuer però figa una parola fino a due giorni fa un giorno e mezzo era blu che valeva 2 milioni e passa io devo accontentare un visto più di ma la fattura va ma la fattura ma non ci posso credere dai che palle fifa di merda fifa di merda Grazie a tutti.